Musica Signor Presidente, cosa dirle se non che le siamo grati per la sua presenza in questo Mi sono sempre chiesto cos'è questo sindrome dell'artofantasma ho visto dei pazienti piangere dopo l'amputazione mi hanno detto che sentono un dolore come se mettessero la gamba persa in una cinghia o anche in un'acqua volente e questo mi ha fatto pensare adesso dovrà essere qualcosa che possiamo fare e con l'esperienza sulla ricostruzione dei nervi ho creato in un paziente operato nel 2014 una nuova tecnica dove vado a reimpiantare dei nervi così che do a questi nervi che sono stati amputati di nuovo qualcosa da fare questo vuol dire che io vado a reinavare il moncone così che il paziente sente dopo l'operazione la gamba persa o la mano persa la conseguenza è che il cervello viene ingannato a credere che la mano persa sia ancora qua e questo ci ha fatto poi vedere che questo inganno del cervello il dolore dell'artofantasma è sparito adesso sappiamo che questa tecnica che si chiama TSR Targeted Sensory Renovation o rinnovazione mirata è veramente una bella tecnica una bella soluzione per curare pazienti con amputazione Mal tempo, dalla giunta via libera allo stato di emergenza regionale 2,8 mln per interventi urgenti I fondi saranno destinati a 5 opere prioritarie nelle zone più colpite dagli eventi meteorologici degli ultimi giorni Serviranno a rimuovere le situazioni di pericolo e a ripristinare la viabilità Stato di emergenza regionale per le zone della Sicilia colpite gravemente dagli eventi alluvionali degli ultimi due giorni Lo ha deliberato la giunta di governo convocata con urgenza per questo pomeriggio dal presidente della regione Renato Schifani stanziati 2,8 milioni di euro dal fondo di riserva per le spese impreviste del bilancio regionale per effettuare nel più breve tempo possibile gli interventi ritenuti indispensabili per rimuovere le situazioni di pericolo e ripristinare lo stato dei luoghi colpiti dai fenomeni meteorologici avversi del 19 e del 20 ottobre 2024 Commissario straordinario per l'emergenza è stato nominato il dirigente generale del Dipartimento Tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture, Duilio Alongi Dopo aver seguito costantemente le voloversi della situazione dei giorni scorsi dice Schifani stiamo procedendo con tempestività e immediatezza Abbiamo convocato la giunta in via di urgenza dichiarando lo stato di emergenza regionale era un atto dovuto abbiamo stanziato già 2,8 milioni per primi interventi per ripristinare lo stato dei luoghi e garantire ai siciliani una vivibilità e una mobilità Nell'ambito di attività di indagine coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica Etnea i finanzieri del Comando Provinciale di Catania hanno eseguito un'ordinanza del GIP presso il locale tribunale con cui sono state disposte misure cautelari personali nei confronti di 5 persone ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso dei reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti L'odierna operazione, svolta dal GCO fa seguito all'esecuzione dei provvedimenti cautelari nei confronti di 9 soggetti appartenenti a due diverse associazioni criminali al cui vertice si sarebbero collocati In qualità di promotori e organizzatori Siscaro Giuseppe e Stuppia Antonino Gianluca da un lato e Ranno Pasqualino dall'altro In tale contesto, le indagini delle fiamme gialle etnee avrebbero consentito di ricostruire la struttura dei due gruppi criminali e gli stratagemmi utilizzati per l'importazione dalla Spagna verso il territorio nazionale e l'isola di Malta di sostanze stupefacenti e psicotrope nonché per la successiva vendita al dettaglio nelle locali piazze di spaccio Nel complesso, l'operazione ha riguardato 21 indagati di cui 14 destinatari di provvedimenti cautelari uno agli arresti domiciliari e uno con obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria è stato inoltre eseguito il sequestro preventivo anche per equivalente di disponibilità finanziarie e altre utilità nella disponibilità e o di proprietà dei principali soggetti coinvolti fino alla concorrenza della somma di 485.000 euro corrispondente al profitto derivante dal traffico di sostanze stupefacenti A segnalare la presenza degli ordigni è stato un cittadino che ha prontamente allertato il 112 Gli artificieri della questura di Catania sono intervenuti al porticciolo di San Giovanni Licuti per mettere in sicurezza due bombe da mortaio presumibilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale Gli ordigni sono stati scoperti grazie alla segnalazione di un subacqueo locale che li ha notati posizionati sulla banchina Le bombe, gravemente danneggiate e ricoperte di incrostazioni sembrano essere state riportate in superficie dal mare Si sospetta che siano state accidentalmente recuperate durante un'operazione di pesca astralcico facilitata dalle recenti mareggiate che potrebbero aver smosso il fondale I resti metallici delle bombe ancora con le code a elica indicano la loro probabile provenienza subacquea Venerdì 25 ottobre alle ore 9.30 in via Fratelli Cairoli angolo via Ammiraglio Caracciolo quartiere nesima inferiore viale Rapisardi alla presenza dell'assessore comunale all'ambiente Massimo Pesce e di quello alle politiche comunitarie Sergio Parisi con i responsabili del consorzio Gemma che operano in appalto nell'otto centro verrà aperto al pubblico il quarto centro comunale di raccolta della città di Catania il nuovo impianto di via Cairoli come quello aperto nelle scorse settimane nel viale Biaggio Pecorino a Librino San Giorgio rientra in un piano di dislocazione di quattro isole ecologiche in tutto il territorio comunale tenuto conto che fino allo scorso mese di luglio le uniche due funzionanti sono state quelle di viale Tirreno a Trappeto Sud e in via Maria Gianni a Picanello Nel pomeriggio di ieri le catanesi hanno infatti superato le calabresi per 13 a 1 guadagnando i tre punti tra le muramiche in uno degli anticipi di campionato in programma oggi frazioni di gioco tutte a favore delle rossazzurre rispettivamente per 2 a 0 2 a 0 3 a 0 e 6 a 1 top scorer di giornata è stata Daphne Bettini a segno quattro volte mentre Bronte Alligan Giulia Viacava e Morena Leone hanno segnato un gol a testa una rete ciascuno anche per Robin Giutte Marta Giuffrida e Gaia Gagliardi al fischio finale è stata la numero 5 dell'equipe Orizzonte a fare il punto sul match appena disputato questa partita ha detto Marta Giuffrida ci ha lasciato delle sensazioni positive malgrado l'inizio un po' delicato per via dei problemi legati all'illuminazione della piscina che fortunatamente si sono risolti per tempo ci siamo riprese abbastanza in fretta e abbiamo fatto una buona prestazione le previsioni meteo in Sicilia per venerdì 25 ottobre di Globus Television venerdì domina l'anticiclone sulla regione giornata contraddistinta da condizioni di bel tempo cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione temperature massime fino a 25 gradi valori notturni stazionari venti da sud mari martirreno calmo, marionio poco mosso stretto di Sicilia mosso